Due cose Presidente, la prima quando sarà inaugurato l'ospedale in fiera, la seconda se è cambiata la strategia sui tamponi, adesso basta un solo sintomo per poterlo effettuare? Allora, su questo aspetto come ho detto la strategia è cambiata nel senso che l'Istituto Superiore della Sanità ha detto che adesso basta un solo sintomo, ha detto la cosa giusta, nel senso che fino a qualche giorno fa bisognava essere polisintomatici, averne almeno due su tre, adesso basta un solo sintomo. Come ho detto non dovrebbe, non subirà alcun tipo di rallentamento.